I contratti complessivamente sono 36, di cui 12 già stipulati e 24 da stipulare per un totale di investimenti di 1,44 miliardi di euro, con agevolazioni per 697,658 milioni di euro, un contributo a fondo perduto di quasi 400 milioni di euro e mutui agevolati per 300 milioni di euro. Oltre l'80% dei programmi è concentrato nelle quattro regioni dell'obiettivo convergenza, ossia Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Quattro i contratti per il centro nord, due per il cratere sismico dell'Aquila e uno per il Sulcis. I progetti, ha precisato il Premier Renzi, servono a creare o a salvare il lavoro di 25 mila persone e quasi la metà dei programmi, e promosso da imprese controllate da gruppi esteri. I settori interessati sono industria, dove si concentra quasi il 70% dei progetti, agroalimentare per il 19%, turistico per l'8% e commercio per il 3%. Per quanto riguarda la Puglia, le aziende coinvolte sono la Bridgeson, che produce pneumatici, la Interra, che gestisce una centrale a biomasse, e la Siciliani, di Palo del Colle, che lavora prodotti a base di carne. Gli investimenti sono rispettivamente di 41,354 milioni di euro, 45,063 milioni di euro e 16,450 milioni di euro. Sempre in Puglia sono previsti progetti che riguardano la Lincoln, la Vodafone e la Telecom, per quanto riguarda le telecomunicazioni. La Roma Immobiliare prevede investimenti turistici in Basilicata, Maratea e in Calabria per oltre 32 milioni di euro.